Presa di posizione della Regione per aiutare le famiglie siciliane che decidono di affrontare il percorso di un'adozione internazionale, via libera dunque al decreto che approva le modalità di erogazione dei contributi fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie siciliane per l'espletamento delle procedure di adozione. Potranno beneficiare del sostegno economico i nuclei familiari con reddito complessivo fino a 70.000 euro esercenti la potestà genitoriale del minore in possesso della cittadinanza italiana nei confronti del quale sia stato trascritto nei registri degli atti di nascita il decreto del Tribunale dei Minori con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di adozione del Tribunale della Nazione di Provenienza. Con quest'azione ha commentato l'assessore alle politiche sociali Marielle e Polito vogliamo dare un segnale di vicinanza a quella forma di genitorialità ancora discriminata come quella adottiva. Questa tematica sociale negli ultimi anni incassa delle criticità da non sottovalutare. Il numero di adozioni internazionali dal 2011 è sceso del 60,4% mentre aumentano i tempi medi necessari per concludere un'adozione internazionale. Le coppie vanno aiutate e non scoraggiate nel loro alto percorso d'amore, ha concluso Ippolito. L'istanza delle famiglie richiedenti dovrà essere inoltrata per il tramite del comune di residenza corredata da una serie di documenti tra cui l'indicatore della situazione economica equivalente. I comuni entro il prossimo 31 ottobre trasmetteranno le richieste istruite al Dipartimento regionale della famiglia e politiche sociali. La legge di stabilità stanzia 600.000 euro per rimborsi che non potranno superare 5.000 euro nel caso di sé fino al 35.000 euro. Per indicatori fino a 70.000 euro invece il contributo previsto potrà montare a non oltre 3.000 euro.